Si parla di assegnazione di alloggi popolari in Abruzzo nel documento presentato ieri pomeriggio in una conferenza stampa del Presidente Marsiglio e dell'assessore regionale Guido Liris. Linee guida da sottoporre al vaglio del Consiglio regionale, ma già si registrano le prime reazioni. Le positive provengono ovviamente dalla maggioranza, anche se con qualche distinguo. Il capogruppo di Fratelli d'Italia, Regione, Gurino Testa, ciò che ci sta a cuore ed è nelle nostre priorità, scrive Testa in una nota, di restituire alla società abruzzese il principio dei giusti diritti e doveri per tutti in ogni ambito d'azione. Le abitazioni rappresentano una tematica importante, una delle condizioni basse per una vita dignitosa ed era doveroso intervenire per evitare ulteriori discriminazioni tra i cittadini. Un obiettivo perseguito da questo Governo regionale sin da subito ed oggi arriva una risposta concreta per i nostri cittadini. Di legge già esistente parla invece il Presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri, lui stesso promotore di una norma passata nella scorsa legislatura. È giusto che il Presidente Marsiglio amplifichi, completi questa riforma ora che siamo noi al Governo e che sancisca un principio che le regole devono valere per tutti, che essendo in Italia è assolutamente corretto che se un italiano deve dimostrare l'assenza di fonti di reddito lo debba fare anche uno straniero e che chi sta dentro un alloggio popolare sa che sta detenendo un immobile pubblico che deve essere tenuto con rigore e che se c'è qualcuno che appunto usa questo immobile per commettere reati non lo tiene nelle condizioni dovute, ciò possa essere controllato nel corso del tempo e si perda il possesso dell'immobile. Su fronte critiche da segnalare quella della gruppo consigliare regionale del Partito Democratico che parla di una propaganda di distrazione di massa, si rischia di non affrontare un riordino complessivo della legge 96 del 96 che non è in grado più di dare risposte vere al bisogno dei cittadini mentre l'affondo più circostanziato è quello dell'attuale vicepresidente del Consiglio regionale esponente del Movimento 5 Stelle e con alle spalle mille battaglie sul rispetto delle regole e della legalità nei quartieri popolari, Domenico Pettinari. Una legge esiste e lo sanno già tutti i cittadini abruzzesi che prevede che chi delinque, chi commette reati deve essere sbattuto fuori dalle case popolari il problema è che non viene applicata, quindi prima di fare modifiche e modifica il presidente della regione dovrebbe far applicare quella legge che è una legge regionale, i sindaci non la applicano e per far applicare quella legge io che cosa avrei fatto se fossi stato presidente di regione avrei imposto ai sindaci l'applicazione della legge e quindi cacciare tutti coloro che delinquano all'interno delle case popolari o non hanno i requisiti pena il ritiro dei fondi, dei finanziamenti. Parla invece senza mezzi termini di incostituzionalità all'Unione Inquilini specie nella parte relativa agli extracomunitari Nel documento Marsiglio Liris si fa riferimento all'obbligo della presentazione di dichiarazione di redditi anche all'estero per extracomunitari in generale non tenendo conto che il governo ha annunciato di voler arrendere pubblica una sorta di black list di paesi non europei in assenza di questa lista la regione non può fare una generale discriminazione Noi poi facciamo un discorso più generale sono anni che ormai non vengono investite denaro pubblico sulle politiche abitative e si cerca di scatenare una guerra tra poveri cioè obiettivamente oggi ci sono tanti che hanno punteggio per avere diritto a una casa popolare ma obiettivamente non ci sono case popolari a sufficienza Noi da anni stiamo rilanciando un piano decennale che consentirebbe un milione di nuovi alloggi tra il recupero di tutto il demanio pubblico e militare inutilizzato e l'acquisto a prezzo di costi da tutte le ditte di costruzione degli alloggi invenduti